Il crollo del teatro Astra ha creato una cicatrice sulla pelle di Bassano, uno strappo che non resta in superficie. Non è un graffio quello del teatro di Viale dei Martiri, è un'ulcera fatta di legno marcio, tegole schiantate e sogni infranti. Una ferita nascosta ai più dalle porte chiuse dello stabile e dal tetto sfondato dalle offese del tempo. Ma una cicatrice nascosta da una manica resta quel che è, un segno doloroso di quel che poteva essere e non è stato. Ora è il tempo degli interventi d'urgenza per transennare e mettere a curolare antistante l'ingresso per impedire qualsiasi accesso all'interno e permettere in sicurezza la struttura. Il teatro però non è stato posto sotto sequestro. Nei prossimi giorni si svolgerà un sopralluogo presumibilmente congiunto con i tecnici della proprietà e quelli del comune per capire la situazione. Nessuno si espone in questo momento così delicato ma le voci vicine all'amministrazione fanno sapere che la speranza del municipio è di arrivare a una cessione non onerosa da parte del proprietario o hanno acquisto a un prezzo per così dire modico. E proprio qui deve fare la differenza la politica applicando quel che oggi si chiama moral suasion e che non è altro che una persuasione morale del pubblico nei confronti del privato. Per arrivare a un obiettivo molto semplice il teatro Astra deve entrare nella disponibilità dei bassanesi. Ma il prezzo di questa transazione non può essere quello di una cattedrale della cultura solida funzionante e funzionale. Anzi secondo alcuni questo prezzo potrebbe e dovrebbe riferirsi al semplice valore del terreno su cui poggia l'astra. D'altronde qualsiasi restauro avrebbe un costo enorme per un privato mentre il pubblico può pensare sul medio e lungo termine. Il tempo e le buone idee si sa possono cancellare qualsiasi ferita basta volerlo.